Con il patrocino di Alica Roma, sabato 6 luglio 2013, dalle ore 19 alle ore 23, presso il salotto di Fabio, all'isola Tiberina, si è svolto un cocktail per il lancio dei Fashion New Magazine TV. Applaudite, protagoniste della serata, Barbara Molinario, direttore dei Fashion New Magazine Web e Marzia Ponsi, conduttrice del nuovo canale Fashion New Magazine TV. A poco più di un anno dalla nascita, Fashion New Magazine.com si consolida quindi come realtà editoriale e decide di offrirsi ai propri lettori attraverso nuovi canali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.